attito su quest'argomento per cui ho pensato di inserirlo. Ok, riparto. Non mi ripeto per la terza volta, sono qui in compagnia con Patrizia Riva de Neira, Andrea Orsini e Cristobal Iodorowski, che mi terranno compagnia nella prima parte, dove racconteremo un po' di storia di Naran, un po' di la sua biografia, anche se in una maniera molto molto così rapida, è un po' a volo d'uccello. La seconda parte invece di questa diretta coinvolgerà Raffaele Cascone, Andrea Orsini, Riccardo Zerbetto, Leonardo Montecchi e Pierluigi Lattuada, che disquisiranno su tre argomenti che sono stati centrali per Naran, che sono la psichedelia e quindi in particolare la terapia psichedelica, dove lui è stato un pioniere, il patriarcato, perché come nei giorni scorsi c'è stata già una discussione su Facebook, su questo argomento e quindi la critica al patriarcato che faceva Claudio Naranco è attualissima, e poi il concetto dell'educazione. Naturalmente questi sono degli spunti per la discussione e poi lasceremo libertà agli interventi anche su altri argomenti che necessariamente andranno così a ulteriormente commentare questi tre spunti importanti. Adesso vi chiedo scusa, ma leggerò velocissimamente una biografia che mi sono preparato su Claudio, la leggo per cercare di rispettare i tempi senza andare troppo a volto. Sono veramente orgoglioso di poter presiedere, di poter mediare in questa occasione, un anno della morte. Io personalmente ho avuto la possibilità un paio di volte di poterlo avere qui ospite nel mio centro. Premetto, io sono il direttore del Centro di Cultura Contemporanea di Torino, nonché il fondatore di Psicore, che è il network italiano che studia per la ricerca psichedelica e per la ricerca sugli stati di coscienza in generale. e organizzando in diverse occasioni su questo argomento, avevo invitato Claudio, però poi alla fine non ho mai partecipato, ma semplicemente perché questi eventi accapitavano d'estate, qui fa molto caldo, e lui aveva declinato perché essendo anziano non se la sentiva di passare troppe ore in un ambiente così ostile per lui. Queste poche parole che io dirò a livello biografico si rivolgono non tanto alle persone che lo conoscevano, ma anche alle persone che non lo conoscevano, per cui ci perdonino gli addetti ai lavori e gli allievi che lo conoscevano bene, se saremo a volte magari anche un pochino imprecisi. Quindi sarà una panoramica che ricostruisce un po' il lavoro che lui ha fatto, ma non entreremo nel dettaglio. Claudio Naranco nasce in Cile nel 1932 e fin da giovane viene educato all'arte, in particolare alla musica, dove si dedicherà allo studio del pianoforte che ha anche altri interessi artistici. Nel 1958 si laurea in medicina e chirurgia all'Università di Santiago del Cile, dove successivamente otterrà la specializzazione in psichiatria. Lavora per qualche anno presso l'Istituto di Antropologia dell'Università di Santiago per poi approdare come ricercatore in diverse università del Nord America. A Berkeley entrerà in contatto con gli ambienti della controcultura americana. In California, nel centro studi interdisciplinare di Esalen, diventerà allievo e poi successore del grande psicanalista tedesco Fritz Peirce, noto per aver sviluppato l'approccio psicoterapico della Gestalt. Esalen è stato uno dei centri più importanti al mondo per lo sviluppo di nuove sensibilità a livello antropologico, spirituale e psicologico. Claudio Naranco a Esalen incontra tra i tanti l'antropologo Carlos Castaneda, il sociologo Gregory Bettson e il farmacologo Alexander Schulgin. Negli anni 60 e 70 sono fondamentali per la sua carriera di ricercatore psico-spirituale con incontri che hanno influenzato in modo determinante il suo pensiero e l'insegnamento. Il più importante di questi incontri è quello sicuramente con Oscar Ricciazzo che lo introduce allo studio psicologico dell'enneagramma. Questo incontro è stato rappresentato, visto che qui abbiamo Cristobal Jodorowsky, è stato rappresentato in modo cinematografico da Alejandro Jodorowsky, che è il papà di Cristobal, nel film La Montagna Sacra nel 1973. studioso di tutte le tradizioni religiose e delle pratiche mistiche, in particolare della meditazione, è un innovatore nel campo dell'educazione. Nel 2007 riceve, parlando appunto a questo punto dell'Italia, la laurea ad honorem in scienze della formazione all'Università di Udine. Per questo motivo, ma anche per altri motivi, negli ultimi 10 anni, pioniere della ricerca psichedelica, negli anni 60, periodo delle frequenzazioni nordamericane, Edie Salln partecipa ai primi workshop e alle riunioni di terapia psichedelica del gruppo di Leo Zeff, e al quale poi contribuirà con l'introduzione dell'uso dell'armalina, dell'MDA e dell'ibogaina. Ritornato in Cile nel 1967, inizia la ricerca in psicofarmacologia in collaborazione con Schulging, esplorando terapie psichedeliche individuali e di gruppo. Parteciperà alla prima conferenza sull'LSD nel 67, dove presenta la sua ricerca sulla psicoterapia assistita da l'ibogaina. Nel settembre del 2014, ha inaugurato la prima conferenza internazionale sull'ayahuasca, e ancora due anni fa era presente, per un bellissimo intervento, di cui è stato il primo a studiarne gli effetti in psicoterapia. L'esperienza, questa prima sua esperienza giovanile, è stata poi riassunta nella sua primissima pubblicazione, che poi è stata ripresa e adesso è anche disponibile con una traduzione in italiano. Concludo ricordando che Claudio Naranco è stato nominato con premio Nobel Pace. Terminata questa brevissima e sicuramente incompleta presentazione, lascerei la parola ad Andrea Orsini, che lo conosceva bene, ancora diciamo, e che potrà raccontarci degli aneddoti assolutamente inediti. A te, a te, Andrea. Grazie Alessandro, un saluto a tutti. Sono contento di stare qui, di ricordare Claudio. Bene, aneddoti, io sapevo che Claudio esisteva già nel 1980, nei libri di Psichedelia, veniva nominato. Poi, vent'anni dopo, quando incontro Patrizia, che lavora, come ha detto, culturale dell'ambasciata cilena a Roma, ho il modo di incontrarlo personalmente, perché Claudio viene a Roma per presentare un suo libro sull'educazione e iniziamo a organizzare l'ospito nel mio studio, perché aveva bisogno di un ufficio, un collegamento internet, anche un suo collaboratore a organizzare tutto il materiale e così iniziamo a chiacchierare, lo accompagno in giro, organizziamo una prima intervista per Alias fatta da De Feo, che è stata anche ripubblicata recentemente, in cui inizia a insistere molto sul tema del patriarcato. Insomma, quest'uomo era molto simpatico, molto empatico. Leggo i suoi libri, discuto alcune cose con lui e mi rendo subito conto che è un uomo complesso, è un'esperienza esistenziale che si è mossa in un largo tempo e che è un tipo di personaggio, di pensatore, di ricercatore molto speciale. Claudio ha una formazione, come anche hai ben descritto nel suo curriculum, una formazione molto vasta e molto precisa, diciamo un accademico, però è un accademico in cui degli incontri straordinari che sono successi nella sua vita o dei fatti anche molto drammatici, personali, come purtroppo la perdita del figlio nel 1970, lo hanno portato a un salto, a un livello di sintesi del suo percorso intellettuale che lo ha messo in contatto con quello che lui chiamava spiritualità e però lo ha fatto con una grazia e con una visione particolare che credo che sia molto dovuta all'influenza che il buddismo ha avuto su di lui per cui cercheremo oggi di descriverla nella sua documentario che sta andando in questi giorni dice che tutto si riduce a quel centro vuoto che è un concetto buddista che è la pepa di noi stessi, il pepe, la spezia di noi stessi è questo centro vuoto che non esiste ma che in realtà è il fondo delle cose e che consente di guardarle senza farle senza indurirle cioè non c'era durezza nel suo modo di vedere è uno sguardo estremamente comprensivo quindi la sua visione era una visione veramente comprensiva non sincretica qui sta forse la difficoltà del comprenderlo però vediamo se in questa è stato sì molto interessante questo tuo spaccato e questa tua ricostruzione mi piacerebbe a questo punto anche sentire Patrizia che cosa ha da raccontarci e della sua esperienza diretta con lui in qualche forma Claudio si trasformava per molti dei suoi discipoli non solo in un terapeuta ma anche in un padre aveva questa cosa da una parte lottava contro il sistema patriarcale ed era molto politicamente scorretto in un senso però lui era un grande padre era un grande padre e anche una grande madre e vorrei dire una cosa che sempre parliamo con Andrea e che ha a che vedere con tutta la sua saggezza sapere come questo uomo in qualche modo è riuscito a fare una sintesi di tutto quello che ha imparato dell'Oriente e dell'Occidente come dire le sue pratiche sulla meditazione e il buddismo in qualche modo prima di tutto sono state portate portate verso il Dionisiaco e non verso un atteggiametto zen e questa era una cosa che per me che sono un'attrice e che diciamo sono figlia di Dionisio mi faceva molto senso era una persona estremamente libera era una persona estremamente libertaria anche e quando io lo incontrai a Santiago stavo per partire in Italia e lui veniva spesso andava spesso in Italia a fare dei suoi gruppi lavori eccetera anche in Spagna quindi per me posso dire lo personale per me è la prodo in Europa l'ho letto anche come un qualcosa che mi ha dato un regalo che mi ha dato l'universo per poter incontrare lui e i suoi insegnamenti che mi hanno trasformata mi hanno trasformata nel senso di incontrare una certa gioia nel vivere è una gioia e questo che diceva Andrea questo Peppe questa Peppa questo seme che pure che c'è dentro di noi e andare verso il mio viaggio interiore che mi raccontava oggi stavo sentendo qualche sui racconti diceva il racconto del 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 pajaro azul dell'uccello blu che è l'uccello che ti darà la felicità e quindi questo principe va nel mondo a cercare questo uccello blu, torna senza incontrarlo e in un momento si rende conto che è nel suo giardino. Questo era lo che lui cercava di spiegarci in tutti i modi possibili, che il nostro essere interiore è perfetto ed è il nostro uccello blu. Quando non riusciva a farcelo capire con la psicoterapia, veniva lavastonata con qualche psicodelico per vedere se la stupidità che portavamo in giro riusciva a muoversi. In questo senso lui utilizzava tutto quello che trovava dai maghi del candombleo, della santeria, fino ai più grandi lama del buddismo tivetano. Sì, hai affrontato il problema del viaggio interiore, di questa sua capacità di non cristallizzare nulla e quindi di tenere aperto questo ventaglio di possibilità e di stare nel qui e ora fondamentalmente. Se Andrea vuole ancora aggiungere qualche cosa, avete ancora un minuto e mezzo del tempo che avevamo concordato oppure passiamo la parola a Cristobal che conclude la prima tornata di questo giro. Era molto simpatico, aveva una sua prima missione di medico ed è stato medico nel senso di darsi agli altri fino alla fine ma è stato anche moltissimo artista e l'esperienza con la musica e il suo amore per la musica classica romantica per Brams, per Beethoven, rientrano in questa visione di una persona che si è occupata di spiritualità e forse questo sarebbe bello approfondirlo, psichedelia, la relazione con la meditazione e con le droghe, ma un uomo estremamente moderno, capace di comprendere la nostra civiltà occidentale nel suo percorso dall'ottocento adesso, assorbendone tutte le spinte critiche. Nel suo panteon non ci sono solo i lama tibetani o gli ideogini o i mistici, c'è anche Marx, c'è anche Nietzsche, c'è anche Reich, il suo impegno umano e politico era tutto un'unica cosa e il punto di passaggio in cui l'esperienza psichedelica e la meditazione buddista molto concreta di relazione con la sensazione e di abbattimento della distanza tra soggetto e oggetto, in fondo di questo stiamo parlando, la chiave con cui lui ha organizzato come un artista con la tavolozza dei suoi colori, tutti gli studi che lui ha fatto, erano tutti ingredienti di un suo percorso artistico e quindi va un po' letto in questa maniera qui, scriveva molto bene. Ecco Andrea, io quando ho preparato la biografia che doveva essere necessariamente stringata, riconoscevo proprio questi passaggi, cioè il fatto che lui abbia studiato arte e ritroviamo l'arte, cioè troviamo proprio questa presa diretta tra le sue esperienze e poi quello che lui ritrasformava nella dicembre... La lettura, se tu guardi come lui si presenta... Mi senti? La proposta a livello sia della terapia oppure anche delle proposte... Questo primo intervento... Non ti sento, ti sento un po' frammentare un attimo, c'è un po' di ritardo? Sì? Diamo la parola a Roma, li vediamo se... Concludi Andrea, concludi. No, una cosa che mi piace tanto, che è impensabile per un accademico del nord, occidentale, questo è... Poi dopo magari parlerò del Cile, dell'ambiente cileno che ho conosciuto. Lui mette sullo stesso piano la formazione con Matte Blanco in psicoanalisi e psichiatria all'università, con l'appliccamento di Toti Laalbert, che era un occultore, un artista molto raffinato, ma anche filosofo e faciente. La copertina del suo libro è una scultura di Toti Laalbert, e quindi questo fa parte del discorso che facevo prima, è molto raro che un grande accademico nordamericano, nord europeo, italiano, metta come sua formazione, non so, sono stato formato da un artista, è come se Rai che dicesse il mio maestro è stato Freud, ma anche Gauguin. Sì, 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 ma lui, riprendo ancora un attimo, lui effettivamente era anche abbastanza critico rispetto a un certo ambiente accademico, perché dice che in realtà l'ambiente accademico non insegnava, mancava di quella sensibilità che era necessaria per fare un intervento di tipo psicoterapico, e quindi questa cosa, e secondo me era lui, cioè in realtà era sempre lui che in qualche modo prendeva forma nelle cose che facevano, quindi c'era questo discorso che noi abbiamo già trattato. Cristobal, a te la parola. Grazie, io mi sumo a quello che ha detto Patrizia e Andrea, raccontare la mia esperienza, io vengo di una famiglia giustamente di artisti, di ricercatori, della verità, che per me la verità è la trovarsi con Dio, con la divinità, e che tutta la ricerca della uschia e della ricerca della divinità, dunque io ho stato infettato da quello da piccolo, con un padre e maestro che era molto vicino a Claudio, e Claudio l'ho conosciuto da piccolo, era come il tio Claudio, ma come io facevo parte piuttosto dell'escola paterna, non potevo troppo andare verso di lui. Dunque ho fatto tutto un percorso di ricerca e anche vengo di una crianza contraculturale, con tanti alimenti, la mia casa era come un'università viva, dove tutto cavia, dove aveva posto per tutto, come l'ha detto Patrizia con Claudio, che faceva entrare tutto. In un momento dato mi sono, come ho cortato il cordone umilicale paterno, ho entrato in un conflitto profondo alla ricerca di me stesso, e stavo alla ricerca di un maestro. Io ho stato creato con la nozione del maestro, del guru, del maestro, di quello in cui ti metti in devozione, che ti impara non per quello che dice, ma per quello che è la presenza del maestro. E ho avuto per tante strade, anche Patrizia, parlavamo tanto di Claudio, e mi sono trovato con lui, è stato un incontro molto 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 bello, molto forte, ma ancora aveva delle occhiali, no? Frente a me era un uomo di molta conoscenza, di infinita conoscenza, di strategia incredibile per operare la mente umana e poter aiutarla a trovarsi a si stesse. Ma io sono andato, non per quello che era lui come uomo di conoscenza, sino per l'uomo che era, io stavo cercando veramente il maestro e la trasmissione. In un momento sono andato a Brasile, dove lui poteva praticare l'ayahuasca, era permesso, stavo facendo un'esperienza con la Russia e gli americani, che era molto hermetico, e mi ha dato una dosis di DMT, io penso che l'elefante, e ho avuto un'esperienza, lui mi ha detto che aveva guadagnato la lotteria, perché ho avuto un'esperienza mistica, penso che da lì nasce la religione, e mi sono trovato con, in lo spazio di questo vuoto che parla Andrea, e questo uccello blu che parla Patrizia, e questa dimensione mi ha detto, adesso ti sei trovato con me, guarda questo uomo, lui sarà il maestro per tutta la tua vita. L'ho guardato, io sono caduto innamorato del maestro, come se c'è innamorato della donna della sua vita, e ho avuto un traspasso di mente con lui, e questa esperienza mi ha detto, vai in genocchi, e mettete dei genocchi frente a lui, e riconoscelo come un maestro pubblicamente. Questo per me era fortissimo, perché il colosso di mio padre era irreplazabile, era un conflitto che io pensavo che nella mia vita era risolto. E allora caminando così, sono andato in un posto di umiltà, io avevo lotato per essere maestro, per voler essere maestro tutta la vita, ho lasciato questa lotta, mio padre si ha metto in suo posto, Claudio ha preso il posto di maestro, con lui ha conectato con me, e dopo l'esperienza, dove io ero completamente ritorno, nato come se fosse un plato di spaghetti alla bolognese, sono andato a dirle, io ho avuto questa esperienza, me sono innamorato di te, maestro, e lui mi ha detto, vamos a vedere se non te lo dimenticas. Questo è stato un shock, perché mi ha messo subito nel piedi, e mi ha detto, vai a tener che lavorare. E allora io lo seguito, gli ultimi anni, dovunque io, dovunque il paese che io, e ho cominciato a conoscere l'amore devozionale del quale parla lui, lui parla di tre amori, devozione, compassione, erotismo, di amori. E mi ha cominciato a lavorare come diceva Patricia, io a dare delle botte, è stato durissimo, perché? Perché io mi avvicinavo a lui, e lui mi dava dei botte, ma erano dei botte di amore, perché stava formandomi a che io mi apra a me stesso. Per me è un uomo di una compassione, e senza inibizione dentro di me, considero che un uomo, che non solamente è un uomo di studi e di conoscenza, è un essere umano che ha realizzato l'estate di conoscenza il più ampio e le conosce, e che lui ha potuto trasmettere per la sua presenza questa situazione, che è al di là delle parole. E' a dire che, avere la possibilità di trovare nella sua vita a un maestro, che nelle tradizioni si chiama il guru, e non nel senso di secte, sino nel senso dove tu ti trovi e per te a uno che è il canale della dimensione più ampia dell'esistenza, che hai completa confianza e che solo per la relazione che hai con lui hai una guarigione parentale che si fa dentro di te dell'erippo, di tutte queste questioni psicoanalitiche che uno anda portando dietro che gli impedisce di realizzare la sua propria essenza. Allora, mi ha preso e molto velocemente mi ha invitato a collaborare. Questo per me, non perché lui era il star del rock and roll casi della terapia, perché io vengo di famiglia di star del rock and roll anche dell'arte, era perché perché ha sentito in me l'autentico amor, l'amore, il totale amore, il sincero amore, l'innocente amore. E io mi sono trovato nella mia famiglia perché mi sono trovato con una famiglia di terapisti incredibili, di esseri umani incredibili, compromesso, di ricercatori, davvero, era come delle città, di mistiche artisti, terapeuti, filosofi, era una banda di persone che hanno dato la vita per la ricerca. Io mi sono trovato lì e lui mi ha abbrassato e per me, per finire, per me, Claudio non è morto di nessuna maniera, lui è qui, è presente, è assolutamente vivo e mi ha imparato a poter capire che la morte non esiste quando c'è un amore realizzato, no? E questo per me è un nutrimento costante. Cristobal, io non voglio interromperti su questo momento così emozionante, però il tuo tempo, purtroppo, a fare l'arbitro, tra l'altro, la mia, diciamo che il mio istinto è molto poco rigoroso, quindi quando mi mettono con un cronometro sono sempre a disagio, però ci siamo dati una serie di regole e io ti vorrei chiedere di tenere qualche argomento per il secondo giro, magari riprendendo proprio da questo momento e a questo punto aprirei il secondo giro, non so se Andrea e Patrizia vogliono commentare magari qualche cosa che ha detto Cristobal, riagganciando la vostra esperienza su quello che è magari questa centralità dell'amore. Sì, bellissimo poter, approfitto per ringraziarvi perché ci state dando un'occasione anche per noi per incontrarci a me con Cristobal che ci conosciamo da ragazzi e che dopo molti anni abbiamo approdato in questo anche questa nuova famiglia che Claudio ci ha donato come Cristobal diceva, in realtà una famiglia di gente che non molla e che lavora insessantemente per gli altri e l'amore di Claudio per le persone, la capacità che aveva per vedere oltre senza giudicare e nel senso che non giudicava il tuo, come dire, la morale, ma poteva vedere chi eri dentro. A me una delle cose che mi sorprendeva sempre, no? Tutti che l'abbiamo conosciuto, come si ricordava dei nomi di tutti e le sue proprie biografie. non so Claudio con quante persone lavorava in un anno, mille, conosceva tutti, tutti i nomi, tutti. Aveva una capacità di accoglierti come se tu fossi una perla preziosa e questo è stato per me sempre un insegnamento perché in questo senso lui era molto cristiano in alcuni aspetti, infatti tutto il tema dell'eniagrama e la tradizione di Gugliev che lui portava con sé. Non so, c'è tante cose che potrei raccontare tante cose. Una delle cose interessanti come ha detto Cristofal che quando c'è la realizzazione dell'amore non c'è la morte. Io credo che anche questo aspetto che i suoi lavori con i psicodeli ci ha dato come attraversare e penso che tutti che siamo qui abbiamo avuto questo tipo di esperienze ma è diverso averla nel contesto di una famiglia così poderosa in un gruppo così di gente così preparata perché molte volte questi lavori con i psicodelici o con l'ayahuasca che Claudio faceva con i suoi collaboratori nei quali io sono stata era per attraversare la morte era per farci capire che siamo tutti i buchi della stessa spugna e che siamo un uno e che in questo uno la morte non c'è questo è un argomento che chi ha fatto delle esperienze di tipo psichedeliche conosce bene ecco io vorrei chiedere a Cristobal di riprendere un attimo questo questo argomento magari collegandolo anche io sono empatico qualcuno ha detto questa parola prima empatia e io penso che molto nasca da questa sensibilità che forse non proprio tutti hanno cioè io mi avvicino alle persone sento quello che sentono loro e quindi entro in questo stato diciamo si citava prima queste forme d'amore e io sento anche quando le persone muoiono scusatemi vi sto rubando qualche secondo io ho imparato a capire questo senso di nostalgia infinita che hanno le persone quando stanno morendo ma non te l'hanno detto cioè lo senti e quindi io capisco la sensibilità di quest'uomo perché per qualche verso anch'io vivo quel tipo di esperienza anche se io poi non lo trasformo in qualche cosa di utile amorevole per gli altri anzi più delle volte cerco di sfuggire a questa cosa perché a volte è molto doloroso cioè quindi ecco che amore e dolore sono forse un po' no la stessa cosa è questo attraversamento della morte di cui si parlava prima cosa ne dici Cristobal? lui insegnava di alguna maniera un'attitudine ispirata dal buddismo dunque c'era la nozione di immortalità ma vivendo la vita da una coscienza dalla mortalità no e l'assettazione dal dolore come iniziazione la traversia del dolore lui parlava molto di bodhisattva è dire che gli esseri che realizzano un stato ampio di realizzazione di plenitudine che di alguna maniera operano sopra se stessi compassivamente sopra questa vita umana che respira che è mortale e che soffre e anche per aiutare gli altri a a calmare un poco queste dolore a poter vivere con lui non insegnava a non soffrire se non gli diceva vamos a imparare a soffrire meglio entrare nell'assettazione dunque era dove anche per la morte che anche dentro di questa forma di esistenza è un'illusione ma era un'illusione abbastanza concreta dunque insegnava a vivere la presenza e darle posto a tutti e di accettare la morte amare la morte abbracciare la morte e di una maniera i processi sento io avevano da avere con quello io mi ricordo una volta che piangeva quando parlava nei gruppi diceva grazie perché mi hanno permesso di morire pubblicamente e nascere pubblicamente questo era molto bello perché aveva la nozione che tu non sei lo stesso tutta la tua vita e che sei in un processo di trasformazione costante e la comunità era un medio per poter vivere quello e rompere questo ego tan cristallizzato al quale uno si identifica dunque era una medicina collettiva dall'ego lui si dedicava all'ego alla morte dell'ego piano piano era prima una lotta contro l'ego ma dopo una specie di macchina di lavare dove si metteva l'ego e tutto si metteva lì senza vergogna senza colpa e uno metteva sopra la tavola tutto ciò che si poteva per vedersi e ordinarsi liberarsi e vivere una vita umana più plena e penso che la genialità anche tranne tutta la genialità che è questo essere per me è che ha trovato la medicina che è la collettività è dicir che la comunità è dicir che ha intentato di fare la terapia della natura che la natura è una collettività è una rete è un essere che funziona collettivo per gli altri per gli altri e per il bene di tutti era un'attitudine anti-darwinista e anti-patriarcale dunque era una guerrigione dello patriarcato attraverso del processo collettivo dove tutti avevano un posto e tutti avevano di importanza come dice Patricia lo che ti guardava non ti guardava il curriculum non ti guardava che abbia fatto non ti guardava niente ti guardava te ti guardava la esenza e con solo il esguardo da lui era come che respirabas e nel gruppo nessuno andava dicendo chi ha fatto chi se noi eravamo vivere una vita umana libero della maschera e vivere senza maschera è veramente qualcosa da cui uno può sperare e alla quale non si può dedicare e lui era un uomo senza maschera ecco io non so non conosco così bene non ho letto tutto quello che lui ha scritto mi viene ascoltandovi mi viene di fare questa considerazione ricollegandoci anche alla critica del patriarcato eccetera cioè del fatto che noi siamo stati educati fondamentalmente a dover essere competitivi e a dover essere in ogni momento molto molto forti e forse il grosso cambiamento è quello di riuscire a toglierci questa questa struttura e tra virgolette metterci a nudo no cioè quindi ribaltare questa questo facciamo un esempio no il maschio non deve non deve piangere mai invece ci mettiamo possiamo piangere cioè possiamo se abbiamo questo questo sentimento di piangere lo lasciamo che emerga e siamo noi stessi in quel momento no non dobbiamo soffocare soffocare quel quel sentimento e quindi diventiamo umani e nel momento in cui diventiamo umani allora ritroviamo quella portante che ci rende tutti uguali no invece nell'altro caso dobbiamo dimostrare qualche cosa e questo dimostrare qualche cosa ci rende in qualche modo tutti diversi adesso non so se sono riuscito a spiegarvi il mio il mio concetto perché faccio a volte faccio un po' di fatica a spi io sono dislessico ho un modo di pensare tutto un pochettino particolare bene abbiamo ancora qualche minuto e inviterei Andrea a un po' a chiudere a chiudere questo primo questo primo giro prima poi della pausa dove dove manderemo un quattro minuti di di Claudio che potremo sentire direttamente dalla sua dalla sua voce nella pausa qualche parola per parlare del suo Cile visto che vi parliamo da Cile guardando l'oceano mi è capitato di conoscere i suoi amici la sua casa e diciamo l'intorno e ancora ce l'abbiamo perché per esempio qui in nostra vicina di casa è la figlia di Adriana Hoffman di quella coppia che che creò la scuola di antropologia medica eh alla fine degli anni cinquanta dove già iniziarono a fare esperimenti con LSD tra l'altro loro erano in contatto con Hoffman eh Svizzera e e poi la Marta Cueppe che è una psicoterapeuta dove sempre Claudio andava a dormire eh era ospite quando veniva qui e molte altre persone ovviamente c'è tutto un mondo cileno eh interessante eh di un'elite culturale sensibile a all'altrove raccontalo la mamma eh la storia che lui raccontava sempre della madre questo non ricordo la sua prima paziente che lui ha guarito è la mamma è la mamma che lo ha convinto di continuare la strada e che è sempre stata in qualche modo anche anche la che lo ha fatto tanto soffrire però a sua volta c'è stata questa cosa no? Quello che voglio dire è che in questo paese in cui c'è una temperatura che va sempre dal caldo al freddo perché ci sono le ande ma il sole è forte e e questo si trasferisce anche nell'umore delle persone e i cilenni diventano molto caldi e molto freddi in modo repentino veloce no? E un paese che ha una vocazione al mistero o a cose strane insomma comunque nel terreno culturale qui sono sorte esperienze o artistiche come Nicador Parra oppure scientifiche che hanno anche influito su Claudio come per esempio il lavoro di biologia molecolare della coppia di Maturana e Varella con la teoria dell'autopoiesis molto importante cioè è un mondo si dice che qui ci siano dei gurgessiani molto esoterici e molto nascosti che ci siano degli altri maestri in qualche modo si dice io non sono riuscito a entrare in contatto però per dire che il mondo da cui esce fuori Claudio è un mondo interessante perché è un paese all'estrema periferia all'estrema occidente è il tramonto dell'occidente e quindi è un punto di è come un'isola è un punto di vista privilegiato perché da qui si può guardare a tutto l'indietro quello che a questo punto è il nostro oriente tutto l'occidente è a oriente del Cile e nascono delle intuizioni e penso che su queste intuizioni sia mossa tutta la vita di Claudio fino a oggi bene direi che possiamo concludere questo primo giro questa prima parte dedicata all'eredità di Claudio Naranco e ci rivediamo vi ringrazio innanzitutto per questi interessantissimi interventi ci rivediamo fra qualche minuto c'è una pausa in questa pausa come già detto manderemo un video con ah no manderemo un video dove potremo sentire la voce e vedere Claudio parlare di felicità che abbiamo già in qualche modo accennato a questo argomento però vorrei poi riaprire la seconda parte dando la parola a Cristobal e parlando di felicità e anche visto che si era parlato di introdurre il discorso psichedelici e terapia psichedelica che abbiamo già anche ampiamente discusso in questa parte introdurre un altro tema cioè quella della felicità artificiale che i psichedelici in altri contesti invece regalano quindi inserire questo tema di quello che potrebbe essere l'artificiosità di un cattivo uso o comunque di un uso diverso dello psichedelico in sé adesso vi chiedo ancora qualche secondo che la regia sta recuperando il filmato eccolo che è su questo su questo commento vi su questo commento lascio lascio la pausa e la scena a Claudio grazie io non lo sento no io lo sento ah forse ma a Grazie. 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 Manca Leonardo. C'è? Io non lo vedo. Benissimo. Ecco, ci siamo tutti. Suppongo che abbiate seguito. Intanto saluto Raffaele Cascone, Riccardo Zerbetto e Pierluigi Lattuada che ci raggiungono per questa seconda parte. Ricordo che i temi su cui dobbiamo un pochettino mantenerci nel binario, ma senza troppa rigidità. Ci sentite? Mi sentite? Sì? C'è qualcuno che ha le... I temi sono della terapia psichedelica, un commento sul patriarcato e l'educazione, con naturalmente la libertà di potersi collegati a questi argomenti, la libertà di commentare con la libertà che ritenete di prendere su altri argomenti oppure di proporre anche altri argomenti. Allora, lascerei di nuovo la parola a Cristobal, anche su questa suggestione, questa idea, delle sostanze, qui parliamo soltanto di sostanze che vengono rivalutate in questo rinascimento psichedelico di terza ondata come una panacea per tante cose. E il dubbio può essere che molti lo intendano invece come la scusa per poter invece accedere a dei paradisi artificiali di burglariana memoria. Quindi vorrei partire magari anche da questo per il secondo giro. Grazie. Io racconterò dell'esperienza personale perché ho fatto un percorso con quello. Per me le psicodellici naturali hanno un misterio. C'è una situazione dove uno arriva a un limite, e si può capire, ma hai un limite dove agisce un essere che è misterioso. Allora, raccontando la mia esperienza, io ho stato creato e sono un figlio, come vi dico, della contracultura e della nascita della cultura psicadelica, dunque l'ho attraversato da giovane, ho avuto la mia prima esperienza dell'LSD, iniziato da mio padre, che è stato meraviglioso perché era un LCD che è stato dato da una forma molto curata, che è stato fatto con musica, che è stato fatto con simboli, che di alguna maniera ha complito questo ruolo che penso che hanno le psicodelliche, che è l'iniziazione. è l'iniziazione per proiettarti all'estate di coscienza intrinse che abitano in noi. Penso che le religioni nascono dalle... Oggi si sa che le prime uomini mangiavano delle psicodellici, delle funghi psilocybios, e che da lì apparece un pensiero simbolico, apparece la coscienza di essere una coscienza, apparece tutti questi mondi sciamanici, eccetera, eccetera. Quindi, per prendere il tema del quale tu stai suggerendo, che l'uso dei psicodellici di forma ignorante, è che si ignora a delle volte e non c'è un'educazione per quello, per esplicare che è una strada di iniziazione alla verità che abita in noi, che anche si chiama medicina, una medicina del corpo, una medicina che utilizzano il popolo per l'anima, è una medicina spirituale, è una medicina nel senso che ti proietta alla medicina che, potremmo dire, è fondamentalmente la divinità interiore, che è la tutta conoscenza. Dunque, sì, le psicodellici sono usate di forma iniziatica, terapeutica, come medicina, eccetera, eccetera, hanno un effetto, ma hanno un effetto non che guariscono delle cose che sì, penso che lo fanno, ma che apri una finestra, è a dire che abri una finestra, come ti mostrano le possibilità che c'è internamente, per dopo, passo a passo, ir arrivando a quello. Per questo ti raccontavo con Claudio che quando ho avuto questa esperienza molto forte, con un limite molto forte, che veramente ho avuto una esperienza mistica, unica in la mia vita, dopo mi ha detto, vamos a vedere se non ti dimenticas, perché adesso hai da fare la strada. Dunque, è a dire, come voglio fare perché la mia vita, diciamo, quotidiana, si adapte a questa esperienza? Per questo ti bisogno di seguito. È lì che arriva la questione, perché se si prende di forma irresponsabile, ignorantemente, allora uno crede che già ha realizzato tutto questo stato. Questo ti può portare a una situazione abbastanza delirante, perché dopo ti cades, come se te cades di un abismo al pavimento, ti rendi conto che questo non è realizzato e può desencadenare delle angosce, delle crisi e delle situazioni. Per questo che c'è un prima, una iniziazione, un, in il momento, essere accompagnato anche per gli esseri che hanno un stato di coscienza che ti possono contagiare quando si prendeva le psicodelliche con Claudio, lui ha un stato di coscienza amplio, realizzato, che attraverso dello invisibile, dello non detto, contagia e ti va guidando come ti vanno guidando i canti dei sciamani, ti vanno guidando le terapisti che hanno le herramienti per accompagnarti di una forma responsabile. è il dopo, il dopo è un seguito, è che vuoi fare adesso con questa esperienza nella mia vita. E per me è stato, io ho avuto veramente il privilegio di poter praticare le psicodelliche di quella maniera e continuare a praticarlo. Hai dei momenti importanti nella mia vita che mi hanno, di alguna maniera, sincretizzato i anni di lavoro in un'esperienza per poter olisticamente vedere lo che succedeva in me per fare un salto, una iniziazione, passare di un stato a un altro cercando di non ritornare indietro e fare questa costante del quale parlavamo morte e rinascita. Ho avuto un'esperienza straordinaria dove ho potuto fare il duelo del mio fratello che era morto alle 24 anni in questa esperienza ho potuto parlare con delle dimensioni ampie dell'essere, entrare in una specie di scuola e veramente è un mondo di iniziazione se uno sa navegare come un psiconauta avispato che ha le rarmi per viaggiare in questo mondo. Io penso che, come diceva Claudio, le psicodellici di alguna maniera sono la bomba che va a rieventare il patriarcato dentro della nostra mente e ritornarmi alla natura. e aiutarmi a respirare l'essenza della natura non la unione con la natura, il nostro essere essenziale eccetera. Cristobal, mi dispiace sempre doverti perché tu parti a briglia sciolta ed è interessantissimo sentirti, però purtroppo la scaletta mi impone sempre questo ruolo cattivello. Tu hai introdotto il tema dell'integrazione, cioè del fatto che fondamentalmente sta diventando uno dei temi ad esempio che noi con Psicore abbiamo affrontato e siamo partiti con dei gruppi di integrazione su Torino e su Milano perché riteniamo che sia un aspetto trascurato ma estremamente importante per quanto riguarda neanche tanto la terapia assistita perché lì si entra in un ambiente come dicevi cioè tu avevi la fortuna di avere una forma scusatemi il termine di sitteraggio veramente qualitativo invece molte volte ci sono dei giovani che fanno questo tipo di esperienze giovani anche meno giovani che fanno questo tipo di esperienze senza un'adeguata preparazione e a volte anche un'autoterapia cioè nel senso che non è soltanto edonismo ma diventa una forma di autoterapia però poi viene a mancare la fase di integrazione e quindi esperienze che possono essere positive quelle che vengono stimolate dall'esperienza psichedelica poi invece naufragono in maniera drammatica e su questo tema chiederei a Raffaele di un primo commento però non lo vedo Raffaele non c'è Raffaele e chi è che vuole a questo punto intervenire al posto di Raffaele fra i presenti se volete posso dire qualcosa sì chi è che se vuoi posso dire qualcosa rispetto a i psichedelici va bene Pierluigi intervieni tu intervieni tu va benissimo nel senso che intanto ringrazio Cristobal perché è straordinario l'amore che trasmette per per Claudio e così per per la sua esperienza ho una similitudine di esperienza con con gli psichedelici cominciata nel quando avevo 18 anni e continuata per lungo tempo tra l'84 in poi con Ayahuasca e le varie tradizioni soprattutto lo santo daime ma diverse tradizioni e via di seguito e non ho mai voluto assumere il ruolo di conduttore via di seguito perché ho sempre trovato che la medicina come dicevi apre i mondi e poi tu devi camminare in questi mondi incontri il maestro e poi il maestro ti dice ok adesso andiamo hai nominato una cosa molto importante che è aprendo questa porta consente di andare oltre il patriarcato e recuperare il culto della Dea recuperare cioè tutto il mondo che la nostra si sa dimenticato cioè quello che io chiamo il versante scordato pensiamo a quanto la società sia appunto patriarcale in termini di controllo in termini di obiettivi in termini di risultati in termini di competizione e quando invece questo enorme collegamento tra l'espansione dei stati di coscienza attraverso una medicina e l'accesso a questa dimensione femminile materna della Dea nella quale il due si fa uno nella quale quello che è fondamentale diventa la fiducia quindi il codice della fiducia come codice guida per una società un rinascimento arcaico come si dice dai tempi di Terence McKenna in poi oppure per una nuova età della condivisione nella quale il femminile con il suo potere riemerge ma non per prendere il posto del maschile ma per trascendere e includere perché la fiducia trascende e include la fiducia trascende e include ogni dualismo trascende e include il maschile e il femminile e così mi viene da collegarmi anche al discorso dell'educazione pensiamo a quanto è importante e quanto è necessario quindi dopo un'esperienza di apertura dopo un risveglio della coscienza grazie all'accesso al Nagual all'accesso ai mondi oltre il velo come sia importante avere un'educazione ruolo che per esempio hanno svolto persone come Claudio un'educazione per accompagnare le persone attraverso questo viaggio che è un viaggio che da quel momento in poi dura per tutta la vita e forse oltre quindi un'educazione fondata sull'integrazione tra maschile e femminile un'educazione fondata sulla fiducia un'educazione fondata sulla condivisione un'educazione fondata su questo riconoscimento che tutto è interconnesso una fondata su l'accesso alle forze della natura pensiamo anche in un ambito terapeutico in un ambito appunto di cure di medicina quanto quanto sia importante percepire che non abbiamo solo come risorsa un protocollo terapeutico o una medicina classica abbiamo come risorsa le forze della natura abbiamo come risorsa le qualità che in ogni istante l'universo intorno a noi ci dispensa e quindi un altro punto che collega gli psichedelici al superamento del patriarcato è la capacità di varcare i confini la capacità di cosa io ne faccio ai confini questa capacità di accorgerci che siamo confinati limitati per esempio dalla mente razionale e accorgerci che c'è la possibilità di fare un passo oltre e accedere a dimensioni oltre questi confini e oltre questi confini quindi padroneggiare il passaggio dei confini è un altro è legato all'educazione è necessario educarsi al passaggio e non è necessario educarsi all'esperienza interiore cosa che appunto nella nostra società non troviamo da nessuna parte chi insegna all'essere umano in quale ordine quale scuola di ordine e grado viene educato all'esperienza interiore viene educato all'espansione della coscienza viene educato alla padronanza degli stati di coscienza viene educato alla capacità di osservarsi e osservare viene educato al dialogo con la Dea al dialogo con la forza della natura al dialogo con le qualità che in ogni istante che gli sciamani chiamavano spiriti il dialogo con gli spiriti perché fa così paura questo termine in realtà siamo immersi in un campo spirituale siamo immersi in forze della natura che agiscono con noi prima Alessandro parlavi dell'empatia di questo sentire l'altro in realtà è qualche cosa di più in realtà percepisci un campo il tuo confine il confine del nostro corpo grazie a un'espansione della coscienza grazie a una sensibilità particolare coglie il campo che unisce me e te che unisce gli individui in una dimensione più ampia e quindi la capacità di cogliere il campo è qualche cosa che nasce che difficilmente senza un'espansione di coscienza senza una medicina che ci guida possiamo realizzare e che senza un'educazione possiamo padroneggiare e senza una cultura che comprenda questo senza una cultura che non cerchi di controllare cerchi di alzare barriere invece che barcarle e questo gioco ai confini tra riconoscere che il confine mi preclude cioè mi limita mi dà quindi la mia casa e il mio luogo di rifugio come direbbe i buddhisti ma mi dà anche la possibilità di barcare la soglia e di cogliere ciò che c'è oltre quindi questo dialogo con il confine secondo me è un punto cruciale che può mettere insieme l'esperienza psichedelica che a me piace più chiamarla enteogenica scusami in quanto sveglia il dio interiore l'esperienza del superamento del patriarcato nel matriarcato patriarcato quindi nell'unificazione delle polarità in quanto cultura di una condivisione e in un'educazione che introduca questi elementi e ci guidi e guidi l'umanità verso questo nuovo rinascimento che secondo me è assolutamente auspicabile e anche un corso secondo me ecco sì bisogna vedere poi come diceva come mi diceva Marta Diccoschi nel momento in cui scende la Kundalini se si apre se si apre alla grazia oppure se ci fa piombare nell'abisso a parte il fatto che anche Naranco diceva c'erano due alternative una di condivisione a livello collettivo oppure il tornare alla situazione dove arriva un qualche cosa che annienta l'umanità sopravvive di nuovo un giusto e da lì riparte un nuovo ciclo però io volevo riprendere questo discorso che tu hai accennato anche fra le righe del fatto di ritrovare un equilibrio fra queste tre parti che sono cioè la parte più arcaica rettiliana e il mesencefalo e la parte più contemporanea e il recupero del femminile sicuramente esattamente come anche un recupero della più biodisiaca e io però mi chiedevo questo equilibrio che deve passare attraverso un processo educativo e sono perfettamente d'accordo con il tuo il tuo pensiero mi chiedevo ma alla fine di queste tre componenti questo equilibrio chi è che lo deve gestire chi è che lo deve portare io ho sempre pensato che poi alla fine parodossalizzare sia proprio questo intelletto che in qualche momento e che in questo momento può essere questo limite che cosa non so se vuole intervenire Riccardo Leonardo partendo da questa mia situazione che magari è anche un po' semplicistica ecco vai Riccardo buongiorno a tutti buongiorno e mi sono spostato fuori sì in effetti c'era una sostanziale diffidenza in Claudio per un sapere una pedagogia intellettuale pragmatica tendente soprattutto a un aumento delle nostre capacità tecniche come si sta sviluppando sempre di più detta proprio chiaramente senza anima quindi il suo progetto è veramente rivoluzionario e diciamo di non facile applicazione nel senso che Claudio stesso attraverso il suo SAT educazione faceva in fondo una proposta agli insegnanti di attraversare un processo trasformativo profondo che li rendesse effettivamente capaci poi di trasmettere non soltanto in teoria ma con una modalità diversa di relazionarsi in cui lui come è stato accennato tendeva a riformulare una teoria dei tre amori delle tre componenti del cervello terricerebrato come diceva appunto McLean che non sottovalutava l'aspetto istintivo il puer il fanciullo cioè il paradigma che lui proponeva rispetto a quello trinitario tradizionale che era quello di una figura o di un principio paterno uno materno e uno del figlio il figlio l'eros è l'entusiasmo la scoperta la libertà lo stupore la capacità quindi come dice anche Jung di tenere vivo il puer e di non mortificarlo con un doverismo persecutorio come spesso i sistemi educativi tradizionali fanno invece di stimolare la curiosità anche la partecipazione corporea emotiva giocosa e l'aspetto poi materno è chiaramente legato anche all'accudimento e all'affetto a tutto il mondo che noi riferiamo a questa funzione e quella paterna invece legata più all'amore anche nelle sue componenti più spirituali astratte universali quindi chiaramente un compito educativo complesso in cui però si ripristinasse una maggiore riequilibrio delle varie componenti che favoriscono la crescita dell'individuo non l'indottrinamento finalizzato alla competitività in questo senso sicuramente la sua lotta spietata al patriarcato ha avuto un grande significato io ero francamente più perplesso nel senso che ritengo che anche la funzione paterna sia estremamente importante come anche il ruolo di un padre all'interno una famiglia che non è assolutamente chiaro noi sappiamo quale crisi sta attraversando appunto la funzione paterna però effettivamente se ci guardiamo intorno siamo sull'orlo di una catastrofe planetaria simile a quella che precedeva la seconda guerra mondiale in cui dei dittatori assetati di potere di armamenti di dimostrare il loro fallico potenza e ci troviamo con un Putin uno Xi Jinping un Trump un Erdogan e veramente è drammatico pensare che cosa può succedere da un momento all'altro quando questi colossi questi titani che possono disporre di arsenali militari poderosi veramente si facessero prendere dalla spirale di una competizione tra giganti da cui rimarremo tutti iscrittoati se ci sono stati 50 milioni di morti nella seconda guerra mondiale non sappiamo quale sarebbe l'esito quindi diciamo questo tema del patriarcat è di assoluta centralità ma la cosa che mi piacerebbe sottolineare è la grandezza di Claudio la cui vastità veramente di conoscenza di esperienza e lui definiva Sat speaker after truth del suo movimento è tutto un paradigma ci sono cinque cd che ricostruiscono la sua autobiografia lui ha conosciuto dei maestri è stato approfondito il Tao il Sufismo conosciuti Idrishan il Tartantun che è stato il suo grande maestro dello Zocen del buddismo tibetano ma è stato veramente un meditante approfonditissimo del Dipasana cioè in questi incontri Sat io ho avuto la fortuna di partecipare al primo Sat 34 anni fa Riccardo devi parlare nel microfono perché ogni tanto si perde la voce e poi volevo avvisarti che il tuo tempo sta per finire e quindi diciamo di concludere un grande tema è stato l'incontro tra la psicologia e la meditazione il suo libro degli anni 60 The Psychology of Meditation adesso è abbastanza acquisito ma allora è stato assolutamente antistiniano come anche la sua pratica della meditazione interpersonale di cui anche altri adesso si stanno appropriando ma che è stato proprio un momento di incontro tra le due grandi cuboni della ricerca quella meditativa e quella psicologica che credo in lui si sono riassurte come nessun altro nel nostro tempo grazie grazie Riccardo io vorrei forse fare un po' un salto un piccolo salto quantico con Leonardo Montecchi mi sento un ritorno fastidioso mi sento tornare in cuffia dicevo con Leonardo Montecchi vorrei partire da un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro blog la scorsa settimana riprendendo un post che De Martino Gianni ha fatto sul saggio sulla trans di La Passat che è stato ripubblicato e dove proprio veniva richiamato chiamato in causa Montecchi e l'idea è un po' un commento e capire questo aspetto cioè della 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 trans o comunque di questi stati modificati che possono essere raggiunti in maniera naturale ad esempio con la meditazione con certe forme meditative oppure con le sostanze rispetto a questa idea della trans come una risorsa vitale che era un concetto un concetto che penso sia abbastanza trasversale tra questo tipo questi pensatori che fanno riferimento alla psichedelia o all'enteogenia come ci dice anche in maniera correttissima la tuada quindi ti vorrei dare questa suggestione per affrontare questo argomento che ci riporta anche fondamentalmente al dionisiaco e alla gestione del dionisiaco e in qualche modo di nuovo ai tre temi che ci siamo dati oggi sì io ti ringrazio molto pensando di avermi invitato a questo interessante lavoro che stiamo facendo tutti insieme e sono molto contento di essere anche con gli altri compagni colleghi tu facevi riferimento ai lavori di la passad con cui abbiamo io lavorato e anche il nostro gruppo di Rimini ha lavorato per molto tempo e l'anno passata ha partecipato molto al movimento del potenziale umano e noi poi anche diciamo lavoriamo su una corrente di pensiero di gruppo che viene dall'Argentina e che prima sentivo che si parlava del collegamento di Claudio con gli artisti questa cosa molto particolare bene e diciamo il fondatore di questa corrente che si chiama Enrique Pichon Riviere era un fautore enorme del contatto tra mondi diversi e quindi del contatto con gli artisti lui fa riferimento tantissimo al conte di Lutromont che ha influenzato tutta la sua produzione la sua formazione e su cui ha scritto moltissimo per quanto riguarda una parte importante che si riferisce alla creatività e quindi diciamo questo pensiero che noi sviluppiamo e unifichiamo con quello dell'analisi del potenziale umano ci porta a considerare gli stati di coscienza come sul fatto insomma che esistano non uno stato di coscienza ma numerosi stati di coscienza tuttavia purtroppo diciamo la dominante la cultura l'ideologia dominante e credo anche l'economia dominante produce sta producendo uno stato di coscienza unico e cerca di convincerci che quello stato di coscienza unico cioè lo stato di coscienza lavorativa quotidiana sia l'unico stato di coscienza e tutto il resto che fuoriesce da quello stato di coscienza diciamo produci consuma crepa sia una psicopatologia da ricondurre all'ordine attraverso delle tecnologie chimiche ma anche disciplinari e per cui diciamo così siamo all'interno di una realtà che vede la dominanza di quella che viene chiamata biopolitica perché diciamo Foucault la chiamava un po' così cerca di incasellare ordinare la vita quotidiana secondo dei principi che riducono l'esperienza dell'essere umano a una vita diciamo molto poco piacevole molto noiosa Leonardo scusami volevo solo dire se riesci a bloccare il telefono e a parlare un po' più vicino al microfono si possiamo pensare a questo tipo di biopolitica di cui dicevo anche come una riduzione della potenzialità umana per ridurlo a questa vita di consumatore naturalmente questa diciamo imposizione purtroppo non è estranea alla mente umana non viene solo la forza esterna ma è Leonardo scusami un integrante del nostro apparato psichico Leonardo dobbiamo interrompervi perché non si sente quasi nulla è molto molto disturbato il discorso è interessantissimo ma difficilissimo da seguire quindi non so magari possiamo riprovare a riprenderlo dopo se migliora il collegamento perché va bene scusami ma è un po' difficile seguirti in questa forma mi spiace aver dovuto aver interrotto Leonardo perché stava aprendo su tanti tanti argomenti anche estremamente interessanti che forse ci avrebbero anche portati un po' troppo oltre a quello che erano i binari che ci eravamo dati oggi io intanto Raffaele Cascone anche lui non aveva un collegamento diciamo accettabile e quindi mi ha scritto poco fa che scriverà qualcosa e cercherà di mandarcelo entro alla fine della trasmissione a questo punto io lascerei non vedo non vedo Andrea Orsini che era previsto un intervento ancora di Andrea però non lo vedo e a questo punto chiederei a Cristobal di commentare gli ultimi tre interventi di Riccardo di Leonardo e di Pierluigi ecco la mail si si oppure sta rientrando Andrea se vuoi possiamo ah ecco voi avete seguito chiedevo un commento sugli ultimi tre interventi di Leonardo e di Pierluigi e di Riccardo interventi molto intensi qualcosa no tanto abbiamo dovuto cambiare connessione però intuisco parto dalla passata per esempio perché anche io amo molto questo autore il lavoro che noi abbiamo cercato di fare con Claudio visto che stiamo parlando di lui è quello di interfaccia con un mondo esterno che non è solo di chi gli sta vicino che giustamente si innamorava di lui perché avete sentito Patrizia avete sentito Cristobal e anche io ero molto seduto perché era un uomo amabile ma oltre questo oltre quello che lui dava ovviamente c'è un motivo di questa amabilità c'è tutta la relazione con il mondo esterno e il lavoro di analisi che ha fatto la passata sociale sul fenomeno della trans e la sua spiegazione di come tutta una serie di mondi della trans sono in realtà distorsioni e patologie dovute a sistemi sociali estremamente tirannici dove la trans diventava non più un luogo dionisiaco di liberazione ma un luogo di condizionamento nel profondo ci porta secondo me a un punto di tutta la faccenda stare vicino a un maestro che ti porta dall'altra parte ti entusiasma ma la relazione sociale di questo lavoro con la storia con il mondo con le altre persone che non lo condividono immediatamente richiede come dire una certa un certo tatto una certa abilità perché quello che lì dove voglia andare è che il lavoro il lavoro di Claudio il lavoro sulla spiritualità che non esclude l'illuminismo non esclude il 68 non esclude tutta una spinta libertaria molto forte e non è riducibile a una visione della tradizione spirituale così come le scuole di destra per esempio ci propongono e questo è molto importante secondo me perché tutta la critica qui vediamo la fusione tra la critica del patriarcato la psichedelia e il buddismo il buddismo in fondo è una scuola che ti insegna a non arroccarti su una posizione a non creare sistemi ma a riconoscere come i sistemi sono sistemi di credenze sono sistemi funzionali ma sono sistemi e ognuno va per conto suo e nessuno può tiraneggiare sugli altri quindi un po' diciamo quello per me rimane il nucleo della lettura anche del lavoro di Claudio non so se siamo completamente ah siamo no no ti abbiamo sentito perfettamente almeno io ti ho seguito perfettamente e forte chiaro ma io volevo ritornare un attimino su questo punto che avevo lanciato a Leonardo Montecchi e che era un'interpretazione allora Claudio Naranco confidava in questa in questo ritorno a una saggezza che ritroviamo in maniera spontanea dentro di noi e io ho un'idea anche diversa e che è quella che e che quindi se vogliamo parte dal di dentro ed è un qualche cosa che noi abbiamo dentro di noi una risorsa in questo caso anche vitale un po' come citava anche la passata io ho un'idea diversa cioè di fatto di come l'intelletto che in questo caso sarebbe un po' la causa di questi disequilibri di cui noi stavamo parlando in realtà possa essere una risorsa cioè se noi usciamo riusciamo a fare questo ulteriore passaggio la speranza di riportare l'equilibrio è proprio di nuovo l'intelletto non so se sono riuscito perché la seconda volta che provo a spiegarvi questo questo concetto cioè Naranco faceva riferimento a una risorsa interiore io faccio riferimento proprio all'intelletto cioè l'intelletto che si pone in una posizione metacognitiva e che quindi è in grado di andare a regolare quelle tre componenti e portarle in equilibrio senza senza riaffidarlo a un equilibrio automediato non so se avete compreso la mia idea ci sono due posizioni diverse ci sono due strade diverse per arrivare in un caso è l'esaltazione tra virgolette positiva dell'intelletto anziché un tornare indietro insomma in qualche modo dell'intelletto per lasciare spazio al dionisiaco e ai sentimenti chi è che vuole posso parlare posso dire qualcosa certo su questo io non credo sai non sono tanto d'accordo con quello che dici non sono due in opposizione ma io la vedrei avendo una mappa più ampia secondo me che uno trascende in più dell'altro cioè quando tu parli di intelletto parli della dimensione cognitiva della dimensione razionale che potremmo vedere legata all'io invece presumo che quello che dice Naranco che è condivisibile dal mondo della fusione personale per esempio sapremo del sé cioè non è un tornare indietro un andare dentro è un trascendere l'io verso il sé la dimensione del sé in grado di trascendere includere l'io in quanto principio armonizzante come torniamo a Jung l'archetipo dell'unità ti consente di accedere a quella dimensione al divino interiore quella dimensione unitaria per il quale l'io o cioè l'intelletto è solo un paio di riflesso è vero che l'intelletto come dici tu è importante perché comprende per esempio l'atto di volontà comprende per esempio la capacità di fare un ragionamento come dire lineare non proiettivo non patologico ma una volta stabilito una base cioè con un intelletto funzionante l'intelletto non raggiunge assolutamente l'essenza o la verità attraverso è necessario trascendere e includere l'intelletto nel sé in quello che Claudio dice lo spazio interiore la dimensione interiore quello che le diverse tradizioni tutte infatti non a caso si collega a diverse tradizioni perché possiamo chiamarlo l'atman per i vedanta possiamo chiamarlo il rigpa possiamo chiamarlo in diversi modi questa connessione con questa dimensione interiore che trascende e include l'io quindi non è un ritorno ma è un andare oltre a mio avviso utilizza l'intelletto per quanto riguarda il mondo ordinario ma lo trascende in questa dimensione del sé che è il luogo delle qualità delle risorse e delle qualità prima avete parlato di morte rinascita al sé accedi attraverso la morte rinascita cioè l'intelletto è prima della morte rinascita dopodiché se tu vuoi accedere realmente alla dimensione del sé del divino interiore delle qualità oltre il velo devi attraversare quello che Groff chiama appunto la morte rinascita per accedere alla dimensione interpersonale dell'essenza di cui parla Claudio devi attraversare la morte rinascita e questa è la morte rinascita è la morte rinascita dell'io nel sé quindi il trascendere come ti dico l'intelletto nell'intuizione nella visione integrale nella capacità di vedere le cose per quello che sono quindi ok questo era quello che volevo perfetto e credo che ci fosse Patrizia che ha alzato la manina non so se ha interpretato bene sono molto d'accordo con quello che sta dicendo Pierluigi è qualcosa che sono riuscita a sentire perché si sentiva un po' male che stava parlando Leonardo su questa sulla cultura patriarcale contemporanea ultracapitalista che non era molto contrario perché era politicamente molto impegnato su questa idea che l'unica realtà è la realtà ordinaria è la realtà del lavoro che siamo qui per per vincere ora che poi ci hanno fatto credere pure che ognuno da solo se la deve fare anche questa idea di non più una pertenenza a una comunità Claudio parlava dei tre amori e questo equilibrio dei tre centri dell'amore è quello che è il problema ma il problema attuale è che c'è un squilibrio c'è uno che ha preso il potere che è questo intellettuale questo winner questo questo avido che deve vincere agli altri eccetera non so se mi sento perché si si allora Cristobal scusami però c'era Montecchi che si è prenotato prima di te subito dopo Montecchi per i parli tutti Montecchi Leonardo provo a intervenire se si riesce a capire che non è molto disturbato è faticosissimo per me allora credo che a proposito di quello che tu chiami intelletto io lo lo penso in questo modo cos'è il filo che tiene insieme diversi stati di coscienza cioè se io vado in uno stato di coscienza in estesi e poi ritorno in uno stato di coscienza ordinario mi ricordo questa esperienza o non me la ricordo qual è il filo che tiene queste esperienze diverse allora Hillman parla di un osservatore nascosto e la passata parlava francese del cosito di trance e anche io penso che nella migliore dell'ipotesi questi stati dissociati diciamo provocano un aumento dell'area della coscienza per usare Ginzburg provocano un aumento dell'area della coscienza se c'è la possibilità di tenere un filo di tenere tutto in qualche modo collegato e di fare come possiamo dire un apprendimento dell'esperienza perché in mancanza di questo sono stati che possono avvenire ma che però non portano a un allargamento dell'area della coscienza ecco noi lavoriamo un po' su come questi stati che magari possono capitare improvvisamente e che comunemente magari provocano un ricovero negli anni sicura con somministrazione di serenase e magari possono essere ricondotti ad una possibilità di esperienza perché sono a mio modo di vedere emergenze spirituali emergenze spirituali in persone che sono state deprivate diciamo così della loro spiritualità che hanno sono stati costretti a costruire la propria coscienza a fabbricare la propria soggettività in modo da espellere qualsiasi anima da sé allora l'anima ad un certo punto viene fuori e produce uno stato di coscienza non ordinario questo stato di coscienza ordinario oggi questa emergenza spirituale oggi viene gestita dalla psichiatria e del DSM quarto quinto sesto e la persona viene diciamo ricoverata e vengono fatti viene cercato di riportare questo ribelle all'ordine costituito si cerca di riportarlo a una realtà che la chiamano così una realtà e di far sì che la persona si adegui passivamente alla realtà non si faccia un po' troppe domande consumi mangi faccia la sua vita quotidiana non vada a pensare che ci sono altri mondi ed altre coscienze io invece credo che noi come c'è penso che condividiamo questo modo di pensare si tratta di ampliare questi stati di coscienza ampliare le potenzialità dell'essere umano e non solo per vivere la disponibilità dell'esistenza di altri mondi prima c'era qualcuno che parlava di spiriti io mi occupo anche di terapia con migranti e non so se uno viene dal Gambia è facile che bisogna conoscere qualche spirito per parlare con lui se lui non sta bene e sente di avere di essere seguito toncino non so però se tu questo è il gin un attimo perché non parlate tutti insieme per cortesia devi togliere l'audio a partita allora io ti ringrazio per questo intervento non so lo semplifico forse sbagliando restituire l'umanità a queste persone lo riassumerei in questa maniera Cristobal cosa ci volevi dire prima avevi chiesto di parlare non so se si dico c'è un punto che penso che è molto importante che che Claudio ha sviluppato una struttura che si chiama l'enneagrama che è l'altro canto dello dionisiaco che lo ha polinio è decir che ir con un supramicroscopio a vedere l'ego e come sta strutturato come sta costituito per andare a fare il lavoro di fondo quotidiano di autoobservazione di autotransformazione e che lui con con le sue anni aveva sviluppato un occhio chirurgico per guardarti l'ego e per poterti dire come una acchi di acupuntura dove sta la desviazione e in questo enneagrama si parla delle peccate non come una situazione intrinsecamente cattiva come lo pinta il giudocristianismo sino come una desviazione non una imperfezione sino come un defecto dell'ego lui ti imparava a guardare la sporchezza a guardare gli aspetti egoisti gli aspetti vanidosi gli aspetti orgullosi gli aspetti additti alla sofferenza eccetera eccetera la struttura dal autotismo ha introdotto dentro dell'enneagrama una sincretizzazione di tutto il suo lavoro per sviluppare una forma metodologica di ir non solamente sviluppando gli stati di coscienza sino di liberando gli stati di coscienza della conquilla dell'ego e dunque kappa por kappa era un trattamento che si faceva non solamente attraverso della meditazione sino io lavoro con del teatro della creatività del movimento spontaneo della respirazione della terapia attraverso dell'enneagrama ha messo intorno tante pratiche che potevano aiutare a fare questa integrazione delle diverse cervelli con il corpo anche perché io penso che c'è un amore un altro che l'amore biologico l'amore delle cellule di sviluppava non sviluppava il trans che ha di avere con il corpo la grazia con il cuore l'éxtasis con il sexo e le illuminazione con l'intelletto sono le tre cervelli il trans nel corpo l'éxtasis nel sexo e l'illuminazione nel cervello alto le quattro dimensioni delle quali parlava Gurdjieff dunque veramente Claudio non solamente ha giocato con dei colori sino che ha creato una struttura che per me è la pratica lo posso dire ma veramente operato e veramente mi ha mostrato una strada perché gli diceva come puoi guardare le stelle se hai una pietra nel scarpe allora te faceva guardarla la pietra ma non solamente parlava del ego sino della constituzione ha scritto uno del primi libro di caratteri neurosis e dopo tutti le libri che ha scritto sobre ogni eneatipi che è fondamentale di conoscere perché ha devolto una parte a aspetto apollinio di guardare in profondità per piano piano ir abriendo la caja forte era come dire conosce la prigione per poterti liberare di lei non solo voler liberarti della prigione sino amare la prigione guardare la prigione entrare diventare un hacker della tua propria prigione e lì arriviamo allo che dell'intellectualizzazione a dell'involta intellettualizzare e pensare sobre datore este occhio testimonio este io coscienza emanente este io realizzato divino eccetera 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 di stati di coscienza ampio delle quali stiamo parlando delle differenti stati che vanno dall'estato di coscienza più conservativo infantile all'estato approfittatore patriarcale all'estato cosmico all'estato planetario cosmico e divino e da lì con un microscopio quantico guardare da un stato da intelligenza emanente non razionale guardarsi con l'autoobservazione e ir da piuttosto un emisferio destro che sinistro in generale uno pensa prima con il sinistro dopo con il destro e Claudio ti imparava a guardare il tutto come in la gestalt a guardare da un non analisis sino di una observazione del tutto che immediatamente ti dà una specie di rivelazione che ti aiuta come un insight la specificità del lavoro penso che è molto importante solinearla perché lui era un chimico uno che guardava al dettaglio e questo penso che è sumamente importante questa capacità di guardarsi e sapere che sta guardando per poter correggere e liberare di una forma adeguata di ogni persona differentemente perché non tutti abbiamo le stesse strutture bene grazie allora volevo soltanto avvisarvi che abbiamo ancora una quindicina di minuti prima che proprio cada il collegamento perché abbiamo due ore di collegamento e quindi vorrei però adesso l'ho visto è sparito volevo dare che si era prenotato ah Zerbetto dice che non si sente ma lì il problema credo che sia suo Zerbetto aveva Riccardo Zerbetto aveva chiesto la parola però adesso non lo vedo più e dice che non riesce a sentire Cristobal io Cristobal lo sentivo benissimo bene allora abbiamo dieci minuti diciamo proprio per concludere e poi ancora qualche minuto per me per concludere chiudere e ringraziarvi di questa di questo collegamento quindi a interventi liberi chi vuole prendere la parola se rientra Zerbetto gli diamo la precedenza che si era prenotato Patrizia Andrea l'ultimo giro le ultime battute ti lasciamo un po' più di spazio visto che ci hanno criticato sul fatto che c'erano poche donne e non c'era un equilibrio fra il maschile e il femminile ti lascio l'ultima parola o la penultima forse per concludere quello che ha raccontato di Stor perché lo ha detto molto bene su questo lavoro che Claudio su questo se vedi che rientra Zerbetto dammela di nuovo così questa struttura che Claudio ha creato che è una struttura c'è un'altra particolarità che penso che è molto interessante perché quella praticamente una scuola che lui ha creato uno degli insegnamenti più importanti lo ribadisco lo sottolineo è che ognuno di noi è in grado di curare e di sanare e di trasformare se stesso ma anche agli altri la scuola di Claudio ci ha insegnato che non è possibile una guarigione solo individuale e in questo senso e forse qui è una cosa che per molti suonarà perché qui c'è anche tanti psicoanalisti eccetera questa possibilità che senza tu essere un terapeuta attraverso l'ascolto dell'altro e con certe guide e nel lavoro della comunità tu puoi aiutare gli altri a trovare se stessi e a trovare il meglio di se stessi a conoscere il meglio di se stessi e anche il peggio perché come ha detto ben Cristobal bisogna conoscere anche la pietra che è nella scarpa per poter toglierla osservarla impararla e forse non so invitarvi che domani c'è un altro grande incontro che magari poi vi lascio le coordinate di salute di commemorazione dell'anno della morte di Claudio la fondazione Sats sì dammi anche il video sì allora quest'ultimo appunto che ha fatto Patrizia sulle commemorazioni di Sat lo trovate i riferimenti su Psicore c'è un articolo che ha scritto Bernardo Parrella che colgo l'occasione per ringraziare perché non è comparso ma ha fatto un grandissimo lavoro per permettere la realizzazione di questo collegamento oggi e appunto troverete un articolo dove vengono riassunte un po' tutte le attività che in questi giorni sono le iniziative che sono partite da diverse fonti in ricordo di Claudio Naranco abbiamo fatto un po' noi già un riassunto per cui basta collegarsi ci sono dei link con i riferimenti precisi con gli orari della meditazione domani mattina e le varie le varie attività che sono proposte dalla fondazione SAP non vedo a questo punto abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno vuole intervenire proprio per una battuta rapidissima di un minuto altrimenti andrei alle conclusioni e ai ringraziamenti e chiuderei andrei alla chiusura del collegamento c'è Leonardo Leonardo si molto veloce condivido totalmente l'idea che la cura se così vogliamo chiamare non è assolutamente un fatto individuale è un processo collettivo comunitario assolutamente totalmente d'accordo con questo lo condivido in pieno e chi pensa di ridurre il processo di cura il processo di cambiamento eccetera ha un fatto totalmente individuale a mio modo di vedere sbaglia nel senso che porta complica il problema anziché andarlo a risolvere e questa dimensione del gruppo della comunità io ritengo sia indispensabile bisogna curare la comunità e curare più globalmente anche tutto questo sistema a marcio che ci sta portando alla distruzione per cui distruggiamo le piante il respiro dell'universo stiamo distruggendo quindi io credo che dobbiamo renderci conto che il cambiamento deve venire anche su questo livello generale ok ho l'audio allora mi fa scenno la la regia che abbiamo ancora sette minuti e quindi proprio l'ultimissime Riccardo non è più compatto per cui la chiusura per ma io ne approfitterei giusto per una parola su Claudio Naranti io sono forse una delle persone che meno l'ho frequentato perché non ho mai stato sui corsi ma sono almeno 30-35 anni che gira intorno alla mia vita l'ho incontrato un paio di volte una volta mi ricordo ad Assisi che gli scambiamo i contatti poi gli chiesi una mail e lui mi disse I am computer un literate e un'altra volta che l'ho incontrato forse quella stessa volta in cui Cristobal era perché era in Brasile a Oro Preto e stava facendo un ritiro di Ayahuasca con degli americani quindi però giusto per dire che una delle persone che ho citato spesso nei libri sono quelle persone che pur non incontrando o non sentendo l'esigenza o non potendo diventare allievo lo senti come fraterno anche se sulla tua stessa onda same page come direbbero gli americani sulla tua stessa onda nella quale ti muovi e è bello sapere che esistano queste persone quindi grazie di nuovo a Claudio e grazie a voi che avete pensato di ricordare perché uno dei danni del patriarcato e della corsa al successo dei secoli è di dimenticare di dimenticare la storia di dimenticare le persone di dimenticare le grandi anime che hanno attraversato questo pianeta e senz'altro Claudio è una di queste quindi grazie a voi ho finito dove siete? grazie per questo intervento io abbiamo ancora veramente tre minuti intanto prima che cada la linea volevo ringraziare tutti voi che avete partecipato e vorrei un pochettino concludere con una visione ottimistica e attraverso uomini come Naranco pensare che la felicità sia un qualche cosa di raggiungibile lui diceva lui diceva che aveva perso un pochettino l'ottimismo perché non aveva trovato supporto ad esempio nei governi nell'inserire il suo programma educativo che abbiamo capito che è lo strumento che può in qualche modo facilitare questa transizione e io invece dopo questa serie di interventi mi sento di poter spendere una parola positiva e così io credo molto nelle squadre nel fatto di fare un gioco di squadra e quindi se incominciamo noi a fare un gioco di squadra e poi allarghiamo la squadra chissà che magari raggiungiamo quella adesso utilizzo un termine un po' un po' forse abusato dalla new age che è quello della massa critica ma forse dobbiamo partire fare questo sacrificio per poi magari garantire in qualche modo un futuro migliore a chi verrà dopo di noi quindi vi ringrazio ancora e direi che possiamo chiudere il collegamento e a questo punto sono venuti fuori talmente tanti argomenti che mi è venuta un pochettino la voglia di andare ad estrapolarne alcuni e poi dedicare delle dirette tipo questa su degli argomenti più specifici cioè questa sera abbiamo fatto abbiamo cercato già di circoscrivere un pochettino gli argomenti però ne sono venuti fuori veramente tantissimi a volte anche un po' sovrapposti così però io mi sono annotato 4 o 5 cose per cui nei prossimi mesi magari mi permetterò di nuovo di disturbarvi e di riorganizzare degli incontri di questo tipo o su degli argomenti più puntuali dove possiamo incominciare ad entrare un pochettino più in profondità magari con quel lanternino con quella lente che l'enneagramma può può essere come ecco come secondo me quel processo metacognitivo di cui io facevo facevo riferimento cioè di come forse sia la capacità dell'intelletto di superare a se stesso e che diventa diventa prospettiva bene grazie saluto sì saluto anche ecco saluto anche Riccardo che probabilmente ha dei problemi di collegamento salutiamo anche Cascone che ci aveva promesso almeno uno scritto ma spero che ci stia ascoltando grazie ancora a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti